L'aeroclub Carlo del Piate di Lucca, per omaggiare le donne per la festa loro dedicata, ha pensato un modo davvero originale. Infatti sia oggi che domani, all'aeroporto di Capanori a Tassignano, il gentil sesso potrà sorvolare Lucca e la Piana gratuitamente, grazie ai piloti specializzati dell'aeroclub, un'iniziativa che compie quest'anno il decimo anniversario e che gli organizzatori intendono portare avanti anche come promozione al volo. Sono Alfredo Vannini, sono il presidente dell'aeroclub di Lucca, abbiamo quest'anno organizzato per la decima volta l'edizione Festa della Donna per far avvicinare i signori e i signorini al volo. Ricordo che l'aeroclub di Lucca effettua circa 1000-1200 ore di volo all'anno da una fiorente scuola di volo con tre istruttori e circa 30 allievi iscritti. Tra questi 30 allievi abbiamo il piacere di avere 5 signore e signorine che stanno prendendo la licenza di pilota privato. Prendere la licenza di pilota privato è la portata di tutti, chiunque lo può fare, non servono particolari doti psicofisiche, basta un po' di buona volontà e un po' di studio. Venite presso il nostro aeroclub e avrete tutte le informazioni necessarie.